Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano, oggi è il martedì 20 di luglio del 2021. Noi siamo qui perché questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Noi stiamo leggendo il libro di Secondo Samuele, quindi vieni subito con me a leggere la parola del Signore. Durante questa giornata e puntata noi leggeremo il capitolo 16 fino al capitolo 17, quindi andiamo insieme a leggere la parola di Dio. Secondo Samuele capitolo 16 Davide aveva superato di poco la cima del monte quando Siba, servo di Mephiboset, gli viene incontro con un paio di asini sellati e carichi di duecento panni, cento grappoli d'uva passa, un centinaio di frutti di stagione e un oltre di vino. Il re disse a Siba, che vuoi fare con queste cose? Siba rispose, gli asini serviranno da cavalcatura per la famiglia del re. Il pane e i frutti di stagione sono per nutrire i giovani, il vino per dissetare quelle che saranno stanchi nel deserto. Il re disse, dove è il tuo figlio, il figlio del tuo Signore? Siba rispose al re, è rimasto a Gerusalemme perché ha detto, oggi la casa di Israele mi renderà il regno di mio padre. Il re disse a Siba, tutto quello che appartiene a Mephiboset è tuo. Siba replicò, io mi prostro davanti a te, possa io trovare grazie agli occhi tuoi, oh re, mio Signore. Quando il re Davide fu giunto a Ba-Urim, uscì di là un uomo imparentato con la famiglia di Saul, di nome Simei, figlio di Gera. Egli veniva avanti pronunziando maledizioni, e gettando sassi contro Davide e contro tutti i servitori del re Davide, mentre tutto il popolo e tutti gli uomini valorosi stavano alla destra e alla sinistra del re. Simei malediceva Davide dicendo, vattene, vattene, uomo sanguinario, scelerato, il Signore fa ricadere sul tuo capo il sangue della tua casa, la casa di Saul, al posto del quale tu hai regnato. Il Signore ha fatto il regno, ha dato il regno nelle mani di Abisalom, tuo figlio, e ora hai le sciagure che ti sei meritato perché sei un uomo sanguinario. Allora Abisai, figlio di Seruia, disse al re, «Perché questo cane morto osa maledire il re mio Signore? Ti prego, lasciami andare a mozzargli la testa». Ma il re gli rispose, «Che ho da fare con voi, figli di Seruia? Se egli maledice è perché il Signore gli ha detto, «Maledice Davide!» «Chi oserà dire perché fai così?» Poi Davide disse ad Abisai e a tutti i suoi servitori, «Ecco, mio figlio, uscito dalle mie viscere, cerca di togliermi la vita. Quanto più lo può fare ora questo beniamita, lasciate che egli maledica perché gliel'ha ordinato il Signore. Forse il Signore avrà riguardo alla mia afflizione e mi farà del bene in cambio delle maledizioni di oggi». Davide e la sua gente continuarono il loro cammino. Simei camminava sul fianco del monte di fronte a Davide e, cammin facendolo malediva, gli gettava dei sassi e buttava della polvere. Il re e tutta la gente che era con lui arrivarono a Ai e Fim e la ripresero fiato. Intanto Abisalom e tutto il popolo, gli uomini d'Israele, erano entrati a Gerusalemme. Ai Tofel era con lui. Quando Cusai, l'archita, l'amico di Davide, fu giunto presso Abisalom, gli disse «Viva il re! Viva il re!» Abisalom disse a Cusai «È questo dunque l'affetto che hai per il tuo amico? Perché non sei andato con il tuo amico?» Cusai rispose ad Abisalom «No, io sarò colui che il Signore e questo popolo e tutti gli uomini d'Israele hanno scelto. E con lui rimarrò. Del resto, di chi sarò io, servo? Non lo sarò di suo figlio? Come ho servito tuo padre, così servirò te!» Allora Abisalom disse a Ai Tofel «Consigliati quello che dobbiamo fare!» Ai Tofel rispose ad Abisalom «Entra dalle coccumbine di tuo padre, lasciali da lui a custodia del palazzo. Lasciate da lui a custodia del palazzo. Quando tutto Israele saprà che ti sei reso odioso a tuo padre, il coraggio di quelli che sono con te sarà fortificato. Fu dunque montata una tenda sulla terrazza per Abisalom e Abisalom entrò dalle coccumbine di suo padre alla vista di tutto Israele. In quei giorni un consiglio dato da Ai Tofel era come una parola data da Dio a uno che lo avesse consultato. Così era di tutti i consiglieri di Ai Tofel, tanto per Davide quanto per Abisalom. Secondo a Samuele, capitolo 17 «Poi Ai Tofel disse a Abisalom «Lasciami scegliere dodicimila uomini. Partirò e inseguirò Davide questa notte stessa. Li piomberò addosso mentre egli è stanco e ha le braccia fiacche. Lui spaventerò e tutta la sua gente che è con lui si darà la fuga, poi colpirò il re solo. E ricondurrò a te tutto il popolo. L'uomo che tu cerchi vale quanto il ritorno di tutti, così tutto il popolo sarà in pace». Questo discorso piacque ad Abisalom e a tutti gli anziani di Israele. Tuttavia Abisalom disse «Chiamate ancora Cusai, l'archita, e sentiamo quello che egli dirà. Quando Cusai fu venuto da Abisalom, questi gli disse «Ai Tofel ha parlato così e così. Dobbiamo fare come ha detto lui, se no parla tu». Cusai rispose ad Abisalom «Questa volta il consiglio dato da Ai Tofel non è buono». Cusai soggiunse «Tu conosci tuo padre e i suoi uomini e sai che sono gente valorosa e che hanno l'animo esasperato come un orsa nella campagna. Quando le sono stati rapiti i figli, poi tuo padre un guerriero e non passerà la notte con il popolo». Senza dubbio, egli è ora nascosto in qualche buca o in qualche altro luogo e avverrà che fin dal principio ne cadranno alcuni dei tuoi. Chiunque lo verrà a sapere dirà «Tra la gente che seguiva Abisalom c'è stata una strage». Allora il re valoroso, anche se avesse in cuore di leone, si avvilirà perché tutto Israele sa che tuo padre è un prode e quel che ne ha con sé sono valorosi. Perciò il consiglio che si raduni presso di te tutto Israele da Dan fino a Be'er Seba, numeroso come la sabbia che è sul lido del mare, che in tu, in tu, in persona vada alla battaglia. Così lo raggiungeranno in qualche luogo, egli si troverà e li cadranno addosso come la rugiada cade sul suolo e di tutti quelli che sono con lui ne scamperà uno solo. Se egli si ritira in qualche città, tutto Israele cingerà di funi quella città e noi la trascineremo nel torrente in modo che non se ne trovi più nemmeno una pietruzza. Abisalom e tutti gli uomini di Israele dissero «Il consiglio di Cusai, l'archita, è migliore di quello di Aitofel». Il Signore aveva stabilito di rendere vano il buon consiglio di Aitofel per far cadere la sciagura sopra Abisalom. Allora Cusai disse ai sacerdoti di Sadok e Abiatar «Aitofel ha consigliato Abisalom e gli anziani di Israele così e così e io ho consigliato in questo modo». «Ora mandate in fretta a informare Davide e diteli «Non passare la notte nelle pianure del deserto, ma senz'altro va oltre affinché il re con tutta la gente che ha con sé non rimanga sopraffatto». Jonathan e Aimaas stavano appostati presso Enrogel. «Una serva andò a informarli e disse andarono a informare il re Davide. Essi infatti non potevano entrare in città in modo palese. Un ragazzo però li aveva visti e aveva avvisato Abisalom, ma i due partirono di corsa e giunsero a Baurim a casa di un uomo che aveva nel suo cortile una cisterna. Quelli vi si calarono e la donna di casa prese una coperta e distese sulla bocca della cisterna e vi si sparse su dal grano così che nessuno seppe nulla. I servidi Abisalom vennero in casa di quella donna e chiesero «Dove sono Aimaas e Jonathan?» La donna rispose loro «Hanno attraversato il ruscello». Quelli si misero a cercarli e non potendoli trovare tornarono a Gerusalemme. Poi appena se ne furono andati i due uscirono dalla cisterna e andarono a informare il re Davide. Gli dissero «Alzatevi, affrettatevi ad attraversare l'acqua perché ecco qual è il consiglio di Aitofel adatto a vostro danno». Allora Davide si mosse con tutta la gente che era con lui e passò il Giordano. All'alba neppure uno era rimasto che non avesse passato il Giordano. Aitofel, vedendo che il suo consiglio non era stato seguito, selò il suo asino e partì per andarsene a casa sua, nella sua città, mise in ordine le cose della sua casa e si impiccò, così morì e fu sepolto nella tomba di suo padre. Davide giunse a Ma'a Na'im, anche Abisalom attraversò il Giordano con tutta la gente d'Israele. Abisalom aveva messo a capo dell'esercito Amasa, al posto di Ioab. Amasa era figlio di un uomo chiamato Itra, l'Ismailita, il quale aveva avuto relazioni con Abigal, figlio di Nakas e sorella di Seruia, madre di Ioab. Israele e Abisalom si accamparono nel paese di Galaad. Quando Davide fu giunto a Ma'a Na'im, Sobi, figlio di Nakas, che era di Rabba, della città degli Ammoniti, Makir, figlio di Amiel, da Lodebar, e Barzilai, il Galadita, di Roghelim, portarono dei letti, dei cattini, dei vasi di terra, del grano, dell'orzo, della farina, del grano arrostito, delle fave, delle lenticche, dei legumi arrostiti, del miele, del burro, delle pecore, dei formaggi di muca, per Davide e per la gente che era con lui, affinché mangiassero, perché dicevano, «Questa gente deve aver patito fame, stanchezza e sete nel deserto». Davide che deve scappare e fuggire dal proprio figlio, una famiglia divisa. Ma io ti invito domani a essere qui con me per ancora una volta ascoltare la lettura della parola del nostro Signore. Io prego che il Signore possa continuare a parlare nella mia, ma anche nella tua vita, nel nome di Gesù. Come di consueto, un forte abbraccio, un santo bacio, che il Signore possa continuare a guidare la mia e la tua vita attraverso la parola di Dio.